Uniti si cresce, il calcio guarda avanti, una giornata coronata dalla visita del presidente federale Gabriele Gravina in un momento di confronto del comitato LND Abruzzo con il presidente Gravina appunto per parlare di ripartenza del calcio giovanile e di strutture. Al tavolo con Gravina Ezio Memmo, presidente del comitato Lega Nazionale Direttanti Abruzzo, Daniele Ortolano, consigliere federale, l'assessore regionale Guido Liris. Gravina ha parlato dell'Abruzzo come di una terra di grande progettualità e di un nuovo rinascimento con la ripartenza, riportare le nazionali in Abruzzo, l'aquila che deve tornare punto di riferimento per il colore azzurro, tanti gli obiettivi compreso il conciliare gli interessi del calcio di elite con quello fatto da tantissimi volontari. Io credo che esiste il calcio, il calcio ha un linguaggio universale, non esiste un calcio più basso rispetto a un calcio più alto. La trasversalità dei valori del nostro mondo nasce, si radica nel mondo del dilettantismo, nel mondo del volontariato e quindi voi potete ben capire quanto io devo e debba necessariamente impegnarmi nel gratificare quel mondo del volontariato che puntualmente ogni settimana, ogni mese deve sottrarre i 50 o i 100 euro, permettetemi di dare anche delle cifre dal proprio piccolo stipendio di dipendente pubblico o privato per poter alimentare le speranze di tanti giovani, per poter dare a tanti giovani la possibilità di stare insieme. Per Gravina bisogna guardare avanti, non essere pessimisti, si sta lavorando per far ripartire tutti i settori giovanili perché i ragazzi hanno bisogno di ricominciare. L'elezione nel comitato esecutivo UEFA è stato, dice, un grande risultato. Io non lo so se sono il primo abruzzese ma sicuramente il risultato storico di 53 federazioni su 55 che hanno avuto la possibilità di scrivere il mio nome, di indicare il mio coinvolgimento nell'esecutivo della UEFA è un risultato storico, non c'è mai stato un risultato così importante, a dimostrazione che in un momento così delicato come quello che stavamo vivendo in quelle 24-48 ore il calcio italiano ha una sua credibilità a livello internazionale. L'assessore Liris ha detto che stanno cercando di fare il massimo per lo sport abruzzese, da oggi parte il bando per le squadre di interesse nazionale che portano i brand Abruzzo in giro per l'Italia, ieri un bando per l'impiantistica, insomma si sta lavorando a 360 gradi. Grazie a tutti.